Per gestire ritardi e assenze, selezionare l'icona oppure la voce di menu assenze. Per gestire ritardi e assenze, selezionare per data, scorrere la colonna corrispondente al giorno su cui si vuole segnare un ritardo o un'assenza fino a raggiungere la casella corrispondente allo studente in ritardo o assente, selezionare la casella desiderata e compilare i campi richiesti. Inizio 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 Grazie a tutti.